Eccoci qui insieme questa mattina per parlare quindi anche di questo argomento spinoso, i nostri soldi, come utilizzarli, ci sono delle novità tecnologiche con cui forse dovremmo iniziare ad avere qualche confidenza. Una di queste è stata inventata proprio in Veneto, si chiama Tupay ed è un'applicazione per utilizzare il telefonino, lo smartphone, come si dice, per effettuare dei pagamenti. Con me c'è Costantino Magro che ringrazio qui dal buongiorno. Buongiorno a lei e ai suoi telespettatori. Grazie Presidente del Consiglio di Amministrazione di Tupay, intanto ci facciamo raccontare come vi è venuta questa idea, visto che è una cosa abbastanza recente. Sì, Tupay nasce circa tre anni fa, è una start-up, una delle nuove società che sviluppano il settore tecnologico, è il frutto di un'intuizione di tre inventori, in particolare non sono presenti ma sono Diego Ocari e Daniele Bernardi e l'è sottoscritto. È tutta Veneta ed è veramente nuova e innovativa. Assolutamente, siete persone che nella vita fanno tutt'altro. Non facciamo tutt'altro, in realtà proveniamo, tutti abbiamo delle radici, proveniamo dal mondo della finanza, però più una finanza che ricerca l'inclusione, ecco così, del cittadino o della persona nell'utilizzo degli strumenti che tutelano, diciamo così, il trasferimento del denaro. Allora, spieghiamo intanto che cos'è questa cosa che vi siete inventati, questa app. Allora, l'app di Tupay è un sistema di trasferimento del denaro che utilizza la digitalizzazione, quindi rende il denaro un flusso così telematico e permette di trasferirlo usando i telefonini di smartphone piuttosto che i tablet. Quindi cosa succede sostanzialmente? Uno ha un'apertura di credito attraverso il suo telefonino, come se fosse una carta di credito? Fa qualcosa di simile, nel senso che è una carta, però più vicino a una carta prepagata, dove viene virtualizzato, cioè viene conferito del denaro e trasformato in un segnale digitale. Tra due telefoni è possibile pertanto istantaneamente trasferire le somme di denaro, questo tra privati piuttosto che tra privati e operatori commerciali. Allora, perché sta nascendo questo fenomeno? Perché noi abbiamo avuto a che fare nel corso degli ultimi anni con varie forme di tentativi di utilizzare monete elettroniche, penso ai bitcoin, cose di questo genere, a fare a meno del contante anche per motivi di evasione fiscale, di tracciamento del flusso del contante. Perché serve smaterializzare il contante? Tra l'altro in un momento in cui i consumatori, mi metto dalla parte di chi anche è a casa, pensa, oddio, già sono poco concreti questi denari, non si sa mai che fine facciano. Smaterializzarli completamente forse non ce la si sente ancora, no? Ma diciamo che lei ha detto molto in realtà. Siamo in un momento in cui i sistemi mobili, tutti i sistemi mobili, da quelli di conversazione, di comunicazione, di gestione, di acquisto, sono diffusissimi. La tecnologia legata ai telefonini ha facilitato molto. Il possesso del telefonino è oramai assolutamente diffuso e comune. Poi in Italia, più di tutto il resto del mondo, credo. Lo credo anch'io. E quindi rendere, diciamo, semplice una fase di acquisto dove noi quotidianamente usiamo uno strumento che è il denaro, beh, è quasi naturale portare il denaro all'interno del dispositivo mobile e quindi del telefono. E questa è l'innovazione e l'idea di Tupay. Ah, questa è l'idea, però è un'idea che è stata appunto utilizzata anche per le monete virtuali. Che differenza c'è tra la moneta virtuale e un sistema come questo? Direi che è notevole. La moneta virtuale in realtà è un sostituto, diciamo così, complesso di quello che è il contante, cioè il denaro in senso fisico, come oggetto di scambio. Quello che è il problema delle monete virtuali è la dimostrazione della solidità di chi emette, perché non c'è un controvalore. È come se ci fosse una seconda banca d'Italia, chiamiamola così, che emette e batte la moneta. Correttamente. E questo per evidenti motivi di eccesso di emissione di moneta deve essere regolamentato da soggetti che ne hanno le capacità, quindi in questo caso le banche centrali e per noi Banca d'Italia. Tupay fa tutt'altro. Tupay semplicemente rende più semplice e fluido il gesto normale di consegnare il denaro a qualcun altro. Il denaro nostro esiste, è depositato presso un intermediario a sua volta e noi siamo vigilati da Banca d'Italia per la sicurezza assoluta del movimento finanziario. Ho visto che ci sono anche molte banche che stanno lavorando a questo sistema, è un ambiente dove in molti si stanno muovendo. Sì, come dicevamo prima è una questione di cambiamento dei consumi di comportamento del consumatore e gli intermediari finanziari non possono non cogliere questa opportunità. Tupay resta però con delle sue specificità, con delle sue peculiarità. Tupay non è agganciata ai normali sistemi finanziari, non è una duplicazione di un conto corrente, ma è qualcosa di più semplice, di molto economico, così economico che noi abbiamo deciso in fase di lancio di non far costare assolutamente nulla l'apertura del conto carta, che è una carta prepagata ed è oggettivamente semplice. E' un po' forse il punto di forza di Tupay la semplicità. Ecco, la semplicità però deve andare d'accordo con un'altra parola che quando si tratta di questo tipo di argomenti viene sempre in mente a chiunque. La sicurezza di queste transazioni e la sicurezza poi di chi non si arrivi anche al principale conto che possa essere svuotato, insomma. Corretto. Tupay, a questo punto di vista, ha adottato tutti i più recenti sistemi di controllo e di sicurezza disponibili sul mercato che vanno non soltanto dall'utilizzo della password ma da una serie anche di controlli interni molto precisi e molto affidabili. Non c'è il rischio così di essere aggrediti nelle disponibilità proprie perché è un circuito chiuso quindi qualsiasi tipo di emorragia può essere controllata da un lato e dall'altro è un po' lasciata la libertà del portatore del nostro strumento di pagamento quanto versare nel proprio conto carta, assomiglia a una carta prepagata di fatto. Quindi si può avere anche una piccola disponibilità e mano a mano ricaricarla. Corretto. Cioè ricaricarla non costa? Non costa nulla. Non costa nulla. Quindi dov'è? Com'è che fate a fare business sostanzialmente? A qualcosa di nuovo, anche in questo, proprio perché Tupay vuole rendere semplice, abbiamo detto, il comportamento di acquisto del consumatore. Abbiamo coniato un acronimo di cui poi vi parlerà probabilmente Daniele, che noi chiamiamo l'Eco Sistema. Daniele lo svegliamo anche ai nostri ascoltatori e telespettatori questa mattina. Abbiamo due ospiti che parlano di questo argomento e poi avremo anche l'amministratore delegato che ci spiegherà anche che tipo di persone finora hanno aderito a questo sistema e come sta evolvendo. In questo sviluppo noi abbiamo coniato, come dicevo, un acronimo che è un ecosistema, perché mettiamo, cerchiamo di mettere vicino il consumatore con l'esercente, dove ci sia tra di loro una sorta di scambio. Uno scambio informativo, io acquisto Tupay, entro in una comunità di fatto, pubblicizzo l'acquisto, quindi l'esperienza di acquisto che ho avuto presso il punto di vendita e ricevo in cambio uno sconto. Purtroppo dobbiamo usare termini inglesi, lo chiameremo cashback, ma di fatto è uno sconto in denaro che viene immediatamente accreditato sul conto carta ed è subito spendibile. Ecco dove è il rapporto e noi pensiamo il punto di forza dell'inclusione finanziaria a cui pensiamo. Ecco, stamattina abbiamo parlato anche dei piccoli esercizi commerciali che sono in grande mente a rischio. Questo è uno strumento adatto a loro? Ne siamo sicuri, ne siamo sicuri sia da un punto di vista di diffusione di un messaggio pubblicitario che oggi non è la portata del piccolo esercizio e dall'altro anche di una semplicità di utilizzo e di costo molto contenuto nella gestione dei flussi finanziari. Non è un post, infatti, non è una carta di credito, è qualcosa di comune ma molto, ma molto economico. Ecco, con il moltiplicarsi invece delle iniziative anche la grande distribuzione dovrà prima o poi attrezzarsi a questi sistemi. Ritengo sarà un passaggio obbligato. Forse più difficile per loro magari? Più difficile forse da un punto di vista di processi, ma sicuramente più semplice da un punto di vista di investimenti. Noi contiamo molto sulla grande distribuzione. Quindi voi adesso che obiettivi vi siete posti? La diffusione del sistema, la più semplice possibile entrata in contatto con chi oggi può disporre di questo strumento, renderlo ancora, se si può, più semplice perché le fasce di età che ovviamente possono essere coinvolte sono molte, sono molto diverse, e forse fare un po' di cultura. Allora, intanto noi abbiamo esaurito questi pochi minuti che stiamo dedicando a un fenomeno che sta ampiamente crescendo e tra pochissimo continueremo a parlarne come anticipato anche con Daniele Bernardi, l'amministratore delegato di questa app innovativa che appunto si chiama Tupay. Grazie intanto a Costantino Magro e noi ci vediamo tra pochissimo. Grazie.